Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella settimana di Pasqua le letture della Messa ci presentano le principali testimonianze della Rissurrezione. Il Vangelo di oggi ci parla di Santa Maria Maddalena che spicca tra il gruppo delle piedonne per l'amore ardente e la sollecitudine nel cercare il Signore. Dopo essere corsa per prima ad avvisare Pietro del sepolcro vuoto, ella ritorna indietro e mentre i discepoli, costatato il fatto, ritornano a casa, lei si trattiene vicino al sepolcro in pianto. È talmente presa dal suo dolore che la visione degli angeli non la scuote né la spaventa. Cerca Gesù morto e non si accorge di averlo vivo davanti a lei. Lo riconosce solo quando Gesù la chiama per nome. L'esempio di Maria Maddalena che persevera nella fedeltà al Signore nei momenti della prova ci insegna che chi cerca con sincerità e costanza Gesù non tarderà a trovarlo. Gli altri si erano arresi, cominciando dagli apostoli. Santa Maria Maddalena non si diede pace e continuò a cercare il suo Signore. Sospinta dalla forza dell'amore, continuò nella sua ricerca e venne premiata. In premio della sua fedeltà, Gesù le diede una missione, la missione di recare agli apostoli la lieta notizia della sua risurrezione. Le disse, non mi trattenere, ma vada ai miei fratelli. Congedò in questo modo la fedele discepola, forse per far comprendere ancora meglio l'urgenza di questo annunzio. E così ella andò subito ad annunziare ai discepoli la risurrezione del Signore. Per questo motivo Santa Maria Maddalena è chiamata l'Evangelizzatrice degli Evangelizzatori. Evangelizzare significa portare la lieta novella della risurrezione. Ella portò questo lieto annunzio agli apostoli, i quali lo diffusero poi nel mondo intero. E così tante anime semplici, casalinghe o anche umili operai possono essere avanti nella santità molto più dei sacri ministri e con la loro preghiera umile e nascosta possono fare un bene enorme alla Chiesa e a tutti i sacerdoti. In un certo senso anche queste anime semplici possono essere evangelizzatrici degli evangelizzatori. Per questo motivo il Papa Benedetto XVI aveva promosso il movimento della maternità spirituale per i sacerdoti. Anime semplici, magari umili casalinghe, che si prendevano l'impegno di pregare per la santità sacerdotale. E in questo modo tali anime divenivano come madri spirituali dei sacerdoti. Ci sono tante belle anime che hanno avuto questa vocazione. Tra queste ricordiamo Stantangela da Foligno, una terziaria francescana alle cui preghiere si affidavano tanti sacerdoti. Il cardinale Nicola Cusano, nel XV secolo, vescovo di Bressanone, fu un uomo di preghiera e di contemplazione. In un sogno-visione gli fu mostrata quella realtà spirituale che ancora oggi vale per tutti i sacerdoti e per tutti gli uomini, il potere dell'abbandono, della preghiera e del sacrificio delle anime oranti. Egli racconta Entrati in una chiesa piccola e molto vecchia, adornata con mosaici ed affresche dei primi secoli, al cardinale si manifestò una visione immane. Migliaia di religiose pregavano nella piccola chiesa. Esse erano così esili e raccolte che tutte avevano posto nonostante la comunità fosse numerosa. Le suore pregavano e il cardinale non aveva mai visto pregare così intensamente. Esse non stavano in ginocchio, ma diritte in piedi, lo sguardo fisso non lontano, ma su di un punto a lui vicino, però non visibile ai suoi occhi. Le loro braccia erano aperte e le mani rivolte verso l'alto in una posizione di offerta. L'incredibile di questa visione sta nel fatto che queste suore, nelle loro povere e sottili mani, tenevano uomini e donne, imperatori e re, città e paesi. La maggior parte delle suore, però, sosteneva in mano un solo fratello o sorella. Nelle mani di una giovane ed esile monaca, quasi una bambina, il cardinale Nicola vide il papa. Si capiva quanto il carico gravasse su di lei, ma il suo volto brillava di gioia. Sulle mani di un'anziana suora giaceva lui stesso, Nicola Cusano, Vescovo di Bressanone e Cardinale della Chiesa Romana. Egli riconobbe chiaramente se stesso, con le sue rughe e con i difetti della sua anima e della sua vita. Osservava tutto con occhi spalancati e spaventati, ma lo spavento subentrò presto una indescrivibile beatitudine. Cari fratelli e sorelle, chiediamo alla Madonna, per intercessione di Santa Maria Maddalena, che ci siano tante di queste anime per il bene di tutta la Chiesa e del mondo intero. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.